Buongiorno, non saprei dire bene a che cosa pensa una mamma che è incinta e che inizia l'avventura della sua gravidanza. Potrei però immaginare che sia trepidante e forse timorosa per questa meraviglia che inizia nel suo corpo e nella sua mente questa premura e responsabilità di dare vita a una vita meravigliosa, di doverla custodire. Non saprei dire se è proprio questo, quello che una madre in particolare pensa e sente, ma probabilmente una mamma è tutta concentrata nella creatura che comincia a crescere nel suo grembo e si premura di dare il meglio di sé e di creare le condizioni perché questo figlio cresca nel modo migliore. Certamente mamma Maria ci sorprende perché il suo movimento proprio nel momento in cui viene annunciato a lei di essere incinta appare tutto contrario a quello di una donna tanto preoccupata di stare tranquilla, prendersi cura del proprio bambino. Maria è partita subito facendo un viaggio lungo per arrivare a trovare Elisabetta e di fronte all'esultare di gioia del bambino nel grembo della cugina, ecco che il canto di Maria sorprende. Ce ne parla Luca nel capitolo 1 versetti dal 46 al 55 e il testo del magnificato un inno straordinario dove la madre di Gesù esulta di gioia ma sembra che il suo sguardo rimane pochissimo rivolto a lei e a quanto di bello Dio sta compiendo nel suo grembo perché immediatamente la vista si alza e gli orizzonti si allargano e il cuore di Maria trepidante palpita per quello che Dio sta compiendo per il mondo. È una mamma che mentre porta in sé il primo genito subito si prende cura di tutti gli altri figli e figli di Dio che un giorno le saranno affidati per sempre. Il canto di Magnificat infatti è un inno alle stupende opere che Dio compie per il popolo e in particolare per i più poveri, per gli ultimi, per gli umili, gli affamati, i diseredati. Maria solidale con coloro che sono messi ai margini allarga il suo cuore e il suo sguardo e la gioia trepidante è rivolta a quanti stanno attendendo la salvezza. Maria in altre parole si decentra rapidamente da se stessa e anche il figlio che porta in sé sa e subito accetta che non sia più suo ma che venga per tutti, per noi anche. A lei, a questa fanciulla di Nazareth, noi dobbiamo tanta riconoscenza non solo adesso quando sappiamo che l'alcedo ci custodisce come madre ma fin da allora quando piccola ragazza di Nazareth si rende disponibile e subito si decentra affinché il meraviglioso compimento dell'opera di salvezza ci raggiunga e ci porti l'amore di Dio attraverso di lei senza confini. Rendici come te Maria, decentraci da noi stessi, allarga i nostri orizzonti e fa che sappiamo essere attenti al bene di tutti gli uomini, soprattutto i più poveri, perché a stare a guardare se stessi è il proprio un belico, non ci si guadagna nulla se non solitudine e tristezza. Buona giornata.